Sì, avete sentito e domani leggerete a seconda della posizione dei giornali che è andata benissimo la conferenza stampa o che è andata malissimo. Noi vi abbiamo offerto quelli che erano i punti salienti e quelle che sono le critiche maggiori. Su un punto però bisogna essere chiari. Ancora una volta Meloni parla del fatto che si trama contro di lei e che non è ricattabile. La prima volta che disse quelle frasi era chiaro a chi si riferiva, un leader politico che non c'è più, ma adesso sarebbe forse il caso di essere espliciti. Perché esplicità, ad esempio Meloni è stata sull'altro caso, sul caso che è davanti agli occhi di tutti, soprattutto per quanto riguarda una cronaca che sembra incredibile, quella di quella notte in quella festa di Biella. La vicenda del parlamentare che ha detto Meloni non sarà presto più di Fratelli d'Italia, ma ci sono novità anche dall'inchiesta su quella vicenda.